Cosa ne pensi di arte e prese in giro? Arte e prese in giro è prendere in giro l'arte, mettersela da parte. Però la vera presa in giro a volte è l'arte, perché ci sono alcune cose che io personalmente sarà che non sono adatto, non capisco. Però prendere in giro un po' l'arte, come fa bene, ma soprattutto bisogna imparare l'arte di sapersi prendere in giro. Ho detto un po' di cazzate, ma... Grazie.